sono del canale cinema e doppiaggio ciao a tutti se volete donare materiale e darlo gratuitamente sarà ben accetto ma anche al pagamento se volete iscrivervi cliccate sulla campanella qua sotto e vi saranno ben gravi anche se volete fare donazioni eccetera ci saranno sempre nuovi contenuti e materiale molto raro il link qua sopra potete trovare il nuovo caricamento di pinocchio l'animazione russo con la versione italiana d'epoca anche se ridotta grazie a tutti e buona visione